Allora, FIAC, l'ultimo pick up, l'ultimo pick up, sì, poi Hunter e Zechef prendono il secondo pick up avanti a FIAC e io e Zechef prendono... Guido io o guidi tu? No, guida tu! Arancio? La prima! No, dove cazzo mi sono messo? Dietro, posto di dietro? No, aspetta, dove cazzo è il posto? Mica, mi ha messo sul tetto della macchina ancora un po'. FIAC, mi sentite via radio dal pick up? No, ok, ok. Fonte chiaro, adesso non teniamo chiuse le conversazioni, parlo soltanto io, a mio ordine andiamo. Ok, Silvio io ti ho in visual e mi sta portando all'ultimo marker, quello giallo, passo. Recevuto e rimaniamo in attesa. FIAC, FIAC, comincia a sparare perché qui ci prendono. FIAC, posizione di e spara. Fuoco libero. Ho visto un nemico cadere in una sorta di campo di... Ah no, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, davanti a me, un nemico. FIAC, hai fuoco libero, senza parlare. Recevuto, ma non ho... Ne ho buttato giù uno con un RPG in spalla, passo. Benissimo, voglio sapere se voi vede in visual il complesso che dobbiamo raggiungere. Sì, sì, abbastanza bene, passo. È libero? Eh, un attimo. Ti sembra libero? Sembra libero. Sì, sembra libero, Tobruk. Ecco, adesso sì, sto vedendo il movimento. Esplosione? Sì. Rimani leggermente staccato che non vorrei che rimani anche tu coinvolto in un'altra esplosione. Che cacchio sono? Ah, Tobruk è qua. Aspetta, eh. Posso ingaggiare? Vai, 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 sparali, sparali. Ho battuto uno con un mitragliatore. Ok, vieni qui, eh... Vieni, vieni, Gabri. Entra e passa rasente al muro. Forse Tobruk riesce a recuperarlo. Io ti faccio copertura. Una volta che l'hai curato, non andate in giro per il cortile, che potrebbe essere minato. Ok. Eh, abbiamo eliminato un contatto, Fiacca. Adesso Gabri cerca di recuperare Tobruk. Poi vediamo se riusciamo a recuperare anche Zeda. Passo. Fai copertura e ingaggia i contatti che vedi all'interno del complesso di case. Eh... Eh... Tob è morto, mi dice. Posso lo stesso rianimarlo? Eh... Non lo so. Prova... Prova. C'è... C'è un soldato morto. Ho visto. Era una trappola. Uno degli ostaggi è morto. Ma deve essere trovato l'altro. Come è morto l'ostaggio? Eh... Era già morto. Allora, fate attenzione. Il... Sempre verso nord. L'altra costruzione è un altro ingresso sempre da dietro. Casomai ci fossero mine. Passando dalla parte della scala, poi girate a destra. Sì, ma facciamo il percorso ritroso. Per non... Per non correre i rischi. Ci hanno dato... Ci hanno dato le coordinate dell'altro ostaggio. Che è da tutta l'altra parte. Quindi dobbiamo tornare ai veicoli. Tu rimani lì finché noi non ci allontaniamo dal villaggio. Poi rifai la strada a ritroso e ci ritroviamo dove ci siamo lasciati inizio coi veicoli. Ci fermiamo qui FIAC. C'è... No, non si ferma più. Eh... Fatti, non prendo. Ok. Ok. Ci muoviamo tutti insieme in direzione sud. Poi... A un certo punto ci dividiamo. Oggetto. Un, due, tre camioncini. Cazzo stavendo su noi. Due mimetici, un azzurro. Stai giù. Che io riesco a vedere. Senza tecniche, però senza armamento pesanti. Invece ho... Uno... Due... Tre... Quattro... Almeno quattro contatti visibili nel paese. Più forse altri nelle case passanti. Sono quelli di prima. Un altro è dietro nel burro di finta, mi sembra. Sì, 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 sì. Hai ragione. Ce ne sono due. In mezzo alla strada praticamente. In mezzo alla strada principale. Dove ci sono le case con gli alberi quelli alti. Ce ne sono due. Ok, ne ho parecchi qui in mezzo alla strada che stanno puntando verso i terfiac. Cerco di... Inghaggiarli. Sì, è che io non li vedo. Ok, ho preso due in mezzo alla strada. No, c'è un... Un cortile che racchiude tre o quattro costruzioni. Pazzo! Alla tua sinistra attuale. Chi spara? Qua sono, Marco. Ne ho preso uno dalla finestra. Trovato, trovato, Marco. Però c'è... C'è dietro un nemico. Hunter da FIAC. Sono io. Pazzo, tu eri. Pazzo. Avanti, FIAC. Ho sentito... Ho sentito colpi di arma da fuoco, Paz. Allora vi aspetto qui dove sono, Paz. Eh, ma sì, dai. Noi prendiamo il mezzo e veniamo a prendervi. Ok. Mi giudo. FIAC è qui, Hunter. Siamo in movimento. Arriviamo dalla strada, Pazzo. Hai ricevuto, Pazzo. È dentro. Vabbè, ma tu puoi anche rimanere qui, dai. Eh, grazie. Ci sei? Sono. Ciao, Kelly. Che ci abbiamo fatto? Secondo me gli piace, FIAC. Eh? Secondo me gli piace. Eh? Eh, oh. Che neanche un graffio... Ma... Purtroppo una mina... Ha eliminato Tob. Mannaggia, perché sono morto? È quella una pecora. È una pecora! È una pecora! La pecora... Io non c'è stato nulla da fare. È proprio cadavere. Ho fatto mezza trasfusione, ma poi mi ha detto che cazzo ci fai, non lo vedi che è morto. Non lo vedi che è morto? Non lo vedi che è morto? Non lo vedi che è morto? Uuuuuh, minchia! Non frenano una segna, però! Minchia, non frenano un cazzo! Andi. Adesso la missione ce la dà così o dobbiamo fare missione completate? Ah, grande! Oh... Eh... Ok...